Sì, sono state le decisioni che l'hanno portato a dire sì alla squadra di Luca Becchi. Ciao Ron, sei da Chicago, sei 30 anni e l'ultimo anno hai giocato a Brindisi. Quale è la motivazione che ti ha riuscito a dire sì a Luca Becchi e a sua squadra? La motivazione è di cercare di aiutare a questo team a vincere, di giocare lo più difficile che posso giocare e di cercare di aiutare i miei amici e di cercare di avere un gol e di cercare di vincere. Ha detto che le motivazioni per dire sì alla squadra sono state quelle di poter dare il meglio per il team di Luca Becchi e di raggiungere sicuramente gli obiettivi. Qualche impressione del match che hai visto ora contro il Dertona? Hai qualche impressione del team e del ruolo? Sì, abbiamo un team talentato, un grande team. Sì, ho avuto a vedere alcuni dei ragazzi prima di oggi. Abbiamo un grande team, molta chimica e credo che durante la season sarà un buon team. Gli ho chiesto ovviamente se dopo la prima parte del match contro il Dertona si era già fatto un'impressione sulla squadra e ha detto che è una squadra davvero talentuosa e che potranno fare molto assieme. aveva già visto i suoi compagni di squadra questa mattina presto e quindi è molto contento di far parte di questo roster. Wow. Grazie. Le». Grazie. Grazie per la visione!